Un sapone Che schifo, è molliccio Nella madre che avevo questo proteggi il coso Se non saprei tutto il sangue Nella cucina Ecco Corso Un sap了 Un sapo Qu'è extracted da la chiave? Un sapo Un sapone Un sapone Un sapone L'acqua Un sapone No, ci vogliono i guanti, perché ci si sporca le mani. È tutto mollito, sembra di toccare un gatto morto. Perché il pollo, sì, anche il pollo è mollito, però questo è più grosso. Bisogna usare strumenti di precisione. Ah, ci vuole un panno, un panno riempipista. Prendi questo panno riempipista, però è sporco. No, questo è il mio panno. Questa scuola è pulito. Questa è attacchino. 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 Allora, il limone. Si mette dentro un po' di limone, no? Allora, si può fare una seltina da metterci sopra al limone. e la faremo con un bicchiere. Si prende del limone, si spreme. Poi si prende, si gira. Questa cosa bisogna toglierla, non ho capito. Questo tiene insieme. Ma dai, mi hanno lasciato dentro. Ah, che schifo! Praticamente, come diceva, lasciano dentro anche il collo del tacchino. Questo è il collo del tacchino. Quasi, quasi lo mangio. Poi che c'è? Ci sono altre situazioni qua che bisogna controllare. Oh, ci sono delle situazioni. Ci sono come delle cose dentro. Ok. Vedi? Così. Va bene. Ma lo stesso, dopo si vedrà. Iniziamo con un limone. Ci schifiamo un limone dentro. Un limone dentro. Guardi qua qua. Quindi, se lo mettiamo qua. Che casino, non c'è spazio! Poi, prendiamo un po' di carotine, coltine, fare un empichista, un broccolo anche. Poi, prendo lo staff in tre chi gli stassi e comprato. Com'è che si fa qui? Aiuto. Oh, preparazione, direzione, sto, mentre vuoi. Grazie.